Senti Alessandro, ma quanto può durare secondo te, diciamo, nella sopportazione delle persone o nella stupidità? Io mi aggiungo di alcuni, alcuni ovviamente, non tutti, perché non accorgersi di alcune cose fa parte di quella naturale stupidità della quale siamo tutti poi un po' affetti, se vogliamo, perché poi, e mi ci metto anch'io, cioè tante volte non vuoi neanche guardare, capisci, non vuoi vedere, e quindi dici, vabbè, ma insomma, fammi pensare a giocare, mi diverto un po', alla fine mangio, insomma, chi se ne frega, no? Ecco, però questa cosa quanto può andare avanti? Prima dicevamo che il pluralismo era un valore, un valore, la medicina che non poteva, il corpo non si tocca, perché, proprio perché le dittature passate sono nate sul principio che lo pseudoscienziato può toccare il tuo corpo e fargli qualsiasi cosa, abbiamo capito che invece era una sola, come si dice a Roma, e quindi si è tornato indietro, l'abias corpus è tornato vivo, il pluralismo era tornato vivo, i mezzi non si toccano, guai, guai, adesso siamo dalla parte opposta e quindi vicini ad una dittatura, ammesso che già non siamo completamente dentro, ecco, le persone quanto impiegano poi dopo a capire di nuovo che sta tornando il processo del passato? Allora, tu sai che io approfitto sempre del tuo programma per fare dei discorsi che non sarebbero mai possibili in nessun altro emittente, per ragioni di complessità. Allora, facciamo questa breve riflessione. Allora, il sistema della politica, il sistema della geopolitica, i sistemi decisionali, i grandi processi che determinano i comportamenti di migliaia e di milioni di persone, sono dei processi caotici. Cioè, dal punto di vista epistemologico, noi dovessimo utilizzare una modellistica matematica per descrivere che cosa accade in questo momento in Europa, nel prezzo della benzina, nel prezzo del gas, nel prezzo, come dire, anche della cattiva, pessima informazione stuporosa e assolutamente soporifera e drogante, di cui Alberto ha parlato con la sua consueta magistrale parresia, dicendo la verità, dovremmo utilizzare come modellistica matematica non delle equazioni lineari, ma delle equazioni caotiche, perché il sistema fluttua, fluttua continuamente. Un sistema caotico ha, per funzionare, bisogno, per chi si è occupato un po' di una cosa che si chiama teoria delle catastrofi, di attrattori strani. Faccio un esempio. Se io metto a bollire dell'acqua su una pentola, la temperatura dell'acqua aumenta l'agitazione molecolare delle molecole d'acqua, per cui finché l'acqua non bolle, il sistema è caotico. Poi cosa succede? Quando arriva il punto di ebollizione, come avete visto qualche volta mettendo il vostro pentolino sul gas, vedete che si formano delle bollicine sulla base della pentola dove la temperatura è più elevata e cominciano a formarsi delle cose che si chiamano correnti convettive, per cui a partire da un massimo caos si crea un ordine. Se voi provate a mettere dentro della pastina, vedete che la pastina prima sale, poi scende, prima sale, poi scende e quindi dal casino è venuto fuori un ordine, laddove avrebbe dovuto esserci invece ancora più disordine. Questa cosa nella teoria delle catastrofi, del caos, una modellistica del caos come fra tali, si chiama attrattore strano. Perché quel caos che accade però accade ripetutamente, quindi è un ordine. Crea un nuovo tipo di ordine. Un ordine perché è fisso, perché fa sempre quello, quindi è ordinato. L'acqua passa dallo stato liquido, allo stato gaspissoso a 100 gradi. Se siete in montagna un po' prima, se siete sotto il livello del mare è un po' più tardi, ma ci si crea un ordine. La storia della geopolitica funziona così. Allora perché ad un certo punto siamo arrivati a questo grado di cronicizzazione e quindi ad una situazione che ha l'aspetto melenso di una pandemia di peste o di malaria, cioè una situazione mefitica in cui sembra che più nulla si muova, che tutto sia statico, tutto sia putrido come in un acquitrino infame. Per una ragione semplice, che questo sistema è un sistema paradossalmente, qui dico una cosa che sembra veramente una bestemmia, pacificato da almeno 70 anni. Cioè da 70 anni i mantenitori del potere devono mantenere il potere senza che il loro potere sia messo a discussione da una catastrofe. Questa è forse la ragione per cui il grande Eraclito, persino che diceva che la guerra è la madre di tutte le cose, Filippo Tommaso Marinetti addirittura nel suo delirante futurismo diceva che la guerra è l'unico igiene del mondo. Perché nella storia del passato, dove la tecnologia rendeva possibili le catastrofi, c'erano dei ricambi che consentivano ogni un certo tot di anni a rimettere in discussione gli equilibri precedenti e a riformulare le eliti, il potere, la sistematizzazione delle cose in chiave nuova. Il saldo tecnologico della nostra epoca ha reso impossibile la guerra di successione spagnola, la guerra di successione polacca del 700, la guerra dei contadini in Germania, la pace di Westfale, Wallenstein, il risorgimento italiano. Cioè tutte quelle cose. E poi la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi, l'elite che prima manteneva l'equilibrio attraverso dei salti catastrofici, nella quale però c'era sempre uno che teneva la regia, che almeno dal 1640 sta nella famiglia Rothschild, che prestava i soldi sia al Duca di Wellington che a Napoleone, e quindi manteneva sempre degli equilibri oscillanti e bipolari, è stato costretto ad una cronicizzazione del potere di tipo catastrofico, caotico. Questa ci dà la sensazione che siamo di fronte ad un evento terribile. Perché la tecnologia oggi non rende possibile la storia. Cioè quindi quando si è parlato, quando Fukuyama ha parlato di fine della storia, dove diceva che c'era ormai una grande pacificazione universale basata sui mercati, ai quali doveva corrispondere il massimo della cronicizzazione caotica possibile, ma mantenuta sempre dagli stessi attrattori strani, che come tu hai spiegato benissimo, hanno in mano i mezzi di informazione, hanno in mano le leve dei sistemi normativi. Cioè questa situazione mefitica, gassosa, putrida, infame, nella quale tutti ci sentiamo stretti, ovviamente. Come se ne uscirà? E beh, io tendo a pensare con una catastrofe, inevitabilmente. Non se ne può uscire senza un passaggio catastrofico. Perché senza un passaggio catastrofico questa oppressione dovrà diventare sempre più penetrante, fino a toglierci ogni minimo margine di autonomia. Questo è il punto. Quindi noi navighiamo tra due grandi orrori, se vogliamo. Un orrore è quello, come dire, del mantenimento di questo attuale status quo con una repressione progressiva, continua, sistematica, insopportabile, asfissiante di ogni nostra autonomia personale, sociale, economica. Dall'altra parte c'è quello di cui Putin ci ha dato un'anticipazione. C'è una rottura catastrofica. Questa è la vera reazione psicologica per la quale le psicologie umane che sono più riluttanti nei confronti del sistema mefitico inconsciamente appoggiano Putin. O preconciamente. Perché sono quelli disponibili per la loro tendenza neotenica, neofilica, biofila ad accettare il cambiamento e la catastrofe. Mentre le anime morte gogoliane ci croggiolano in questa palude mefitica. Capisci? Questo è il vero problema. È un taglio esistenziale, è un taglio psicanalitico. Cioè quello che unifica te, Alberto, me e tanti altri, quel 5% di persone che ha cominciato a votare il fronte del dissenso, sono quelli che non sono disponibili ad accettare a vivere in questa palude stigia con le gambe immerse in una merda putrida e l'aria mefitica. Se no mi fa venire in mente quella barzelletta nelle quali c'è il diavolo che porta un dannato che è stato appena buttato nell'inferno e gli fanno vedere tutte le varie torture del demonio. In una ci sono dei diavoli che prendono dei forconi arroventati e lo infilano nel culo della vittima. In un altro ci sono altri diavoli che accecano con delle lame roventi gli occhi, in un altro ci sono dei cavalli di fuoco che squartano le vittime in pezzi. Poi a un certo punto il diavolo lo porta dentro una palude di questo tipo qua, che è una palude di sterco, di merda, e si vedono i dannati che sono con la merda putrida fino alla linea mamillare. E allora dice vabbè, ci sei un po' di puzza, dice ma almeno mi fermo qua. Appena però si ferma vede che il diavolo capo di quella sezione, quel capo batte le mani e va, ragazzi la ricreazione è finita e bisogna rimettersi con la testa dentro la merda. Cioè questa è un po' la metafora della teoria delle catastrofi applicata alla storia del presente. E a questo punto siamo al passaggio in cui dovremo, avendo scelto questa dannazione, anzi per quelli che l'hanno scelta naturalmente, che si trovavano abbastanza comodi con la merda fino alla linea mamillare, di sprofondare con la testa dentro, dove c'entri quindi dentro naso, orecchie, bocca e tutto il resto. Sono stato chiaro nella nostra situazione. Posso chiedere una nota a beneficio degli ascoltatori. Alessandro, siccome tu sei molto dotto nelle tue spiegazioni, spiega un attimo agli ascoltatori cosa vuol dire epistemologico, perché temo che non sia... Epistemologico vuol dire un ramo della filosofia applicato a spiegare le ragioni della scienza. Cioè siccome la scienza non è una metafisica, ma ha bisogno a sua... Ecco, abbiamo un problema di collegamento con Alessandro, adesso lo recuperiamo subito Alessandro, vediamo di là da leggere. Beh, io devo dire che Alessandro coglie sempre nel segno. Il problema grande è che capire cosa fare, noi ci stiamo battendo affinché questo scenario che è assolutamente reale ed è assolutamente... perché questo è uno scenario che è stato negli anni, nei secoli, come una sinusoide e si è ripetuto sempre allo stesso modo. Cioè, è sempre allo stesso modo. Il conflitto è stata una sorta di pirolisi, cioè ha dato una pulizia generale e tutto, perché non c'è la possibilità. Le persone non credono. Oggi c'è una grandissima fetta di persone che non credono un rigode anche di quello che stiamo dicendo noi, magari. È vero, sì, ci sono milioni di persone che ci stanno seguendo, lo vediamo dai numeri, lo vediamo... sì, sono milioni, ma altrettanti la pensano in un modo diverso, gli conviene, gli conviene o la pensano di seguire. Quindi come se ne esce? Noi lo vediamo anche nei famosi pseudo talk show, non sono talk show, sono ovviamente pezzi da circo, no? Adesso nelle televisioni mainstream sono liti volontari, eccetera. C'è la lite, proprio perché quando si discute della questione della guerra, la guerra non vuole essere fermata da nessuno in realtà, di questi signori. Nessuno la vuole fermare, perché per loro è un business. E quindi tu vedi delle discussioni assurde, inutili, alla quale poi peraltro si prestano alcuni soggetti, sui quali io ancora devo capire, no? Perché se tu vai là a prendere schiaffio, comunque non capisco perché lo fai. Però, comunque, mentre non vedo nessuno che si alza, si muove e dice ok, creiamo qualcosa di pluralista, di alternativo di pluralista, che comunque si contrappone ad un messaggio unico. Non c'è. E quindi purtroppo dobbiamo, come sempre, dare ragione ad Alessandro. La pirolisi, alla fine, no? Dai, 30 secondi, poi andiamo su back e torniamo subito. Alberto, volevi dire qualcosa, mi sembra. No, volevo dire che in termini di comunicazione, una spiegazione purtroppo è molto semplice. Ha a che fare adesso con questi stamattina. Guardavo un po' di Twitter e vedo Ricciardi, carta bellotta, che cominciano a ridire. Ah, 100.000 casi al giorno. Ah, qui e là, sui giù. Ma il problema è parlare di questi, Albe, perché questa gente... Ascolta, ma certo, ascoltami. A me non me ne sentirei proprio uscire in sila. Parlo con il mio solito cardiologo, quello che mi ha salvato la pelle nel 2000, che è un cardiologo molto importante, di cui non voglio fare il nome, il quale mi dice, sai, lui è un trivaccinato, un vaccinista convinto, si è già fatto il Covid due volte e ha già detto, ecco, vedete che grazie ai vaccini non mi sono ammalato. Però dopo dieci giorni mi richiamo e mi dice, sai che c'è? Ho parlato con gli infettivologi degli altri ospedali romani, che mi hanno detto che adesso c'è questa variante nuovissima, sarà la Omicron 4, 5, non so come la chiameranno, che è molto infettiva, ma è praticamente un raffreddore. E quindi ha detto, perché dobbiamo stare a contare i raffreddori? Adesso noi, e dico una cosa importante, ha detto, adesso noi non facciamo nemmeno più i tamponi, non stiamo a vedere, ce ne sbattiamo. Ma guarda, ti posso dire, questi ci dicono che ci dobbiamo rimettere la mascherina, eccetera, eccetera, ma poi non dobbiamo respirare. Ne parliamo dopo il break, dico solo questo, perché senza ovviamente fare alcun nome, cioè tu sai, mia moglie ha delle responsabilità nel plesso dove lavora, scolastico, lei è un'insegnante da quasi 40 anni, anche lei, quindi era proprio bambina quando è entrata di ruolo, no? Quindi parliamo di persona... Allora, si sono fatti i tamponi un po' di insegnanti così, perché non so per bene, forse c'era un bambino o qualche giorno, tutti positivi, tutti a casa, non hanno nulla. Cioè, infatti, adesso la cosa è, non fate i tamponi, perché quelli stanno a casa senza neanche un colpo di tosse, però il tampone è positivo, ma perché ormai probabilmente c'è, non lo so, poi sai, i pensieri si fanno, perché io, la cosa dice, ma io sto bene, non ho nulla, cioè neanche... Sui tamponi, sui tamponi esiste una letteratura immensa che dicono che hanno dei fasi positivi continuamente. Adesso continuano a dire, noi non l'abbiamo fatto questa settimana, lo faremo non la prossima, che io sarò in collegamento da fuori, ma la prossima ancora, riguarderemo l'Euromom e tutta questa roba qua, la mortalità è normale, anzi è al di sotto della normalità, eppure continuano a dire, i bollettini tutti i giorni, 80 morti, 100 morti, se li sommiamo ogni mese sono 3.000 in più. Dove stanno questi 3.000 in più? Significa che ci sono altre malattie che uccidono 3.000 in meno o 4.000 in meno rispetto agli anni passati? Beh, allora ben venga questo Covid, scusate, se è vero che ne uccide 3.000 ma ne salva 4.000. Perché una persona vale l'altra, noi dobbiamo far sì che il popolo muoia meno possibile. Se la statistica mi dice che si continua a morire come tutti gli altri anni, anzi di meno in questa fase, allora quegli 80-90 al giorno che voi ci continuate a citare, ma da dove vengono? È ovvio che probabilmente vengono, sono persone che erano già arrivate alla fine vita e che magari gli hanno fatto un tampone che è risultato positivo poco prima di morire e questi sono morti col Covid e te lo segnano. Ma che cos'è questa puttanata che ci fate vedere? Che questo è il segno dell'informazione che ormai è incancrinita, caro Alberto, questo è il problema. Perché adesso, ripeto, non oggi, non mercoledì prossimo, ma l'altro ancora, quindi avremo tutto il quadro dei primi sei mesi, dove ci mostrerà che alla fine sono morte le stesse persone degli altri anni. E quindi? E ancora parlate di vaccini, di mascherine, di varianti e di quei due che hai citato prima, che io non nomino proprio perché per me non hanno valore, sono persone che hanno fatto per me del male alla nostra comunità, spacciando puttanate in televisione. Io uso questo termine ormai perché è un po' una via di mezzo, fra una volgarità e invece una cosa troppo leggera. che ci hanno detto di tutto, hanno fatto le peggiori supercazzo, le hanno raccontato di dati inesistenti, falsati. Però questo serve a tenerci spaventati, così tutto il resto che ci capita, che ci fanno, che lasciano fare, alla fine lo accettiamo perché abbiamo paura di qualcos'altro. Questa è la tecnica.